Segnatevi questa data, il 19 giugno 2012, perché sono pronto a farvi una dichiarazione. Sono primo nel neuro di tantissimi punti e stasera, dato che ho Francia e Inghilterra come attaccanti nel trappolone, sarò primo sia in un gioco che nell'altro. Ve lo prometto e ve le suono, anzi no, ve le canto. Ho sentito. Grazie per l'ora hai fatto a chiamarti questa cosa, caro mister. Ormai sono carico, 355 punti mi hanno caricato. E te lo dice il Paco Locco, te c'è il champion o te il champion slitter. Quello è vero, però vediamo. Vediamo.